Signore fa splendere il Tuo volto e noi saremo salvi. Signore fa splendere il Tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore d'Israele. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Siamo in questa prima settimana di Avvento, martedì, e oggi vogliamo davvero attingere dalla parola di Dio che ci illumina sui nostri passi. Luca 10, 21-24 In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse Ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella Tua benevolenza. Tutto è stato dato a me, dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli, indisparte, disse Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Amen. Ecco, carissimi, oggi abbiamo questi cinque versetti del Vangelo secondo Luca in cui Gesù esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre per tutto ciò che ha concesso di fare vedere, dice, ai piccoli. Il Padre è rivelato ai piccoli, quindi a noi che lo seguiamo, che lo ascoltiamo. E poi fa una bellissima esclamazione ai Suoi discepoli, indisparte, dicendo Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Beato tu che puoi fare questa esperienza. Dice, molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro. Ecco che ricordiamo che siamo in questa settimana dove domenica abbiamo acceso la prima candela della Corona di Avvento, una candela che è dedicata ai profeti. Si ricordano i profeti. E in questo brano, in questo versetto, si dice che molti profeti e re, pur avendo profetato la mia venuta, avrebbero voluto vedere ciò che voi adesso state vedendo, ma non lo videro. Allora oggi vorrei prendere e farlo ogni giorno il profeta che viene proposto dalla liturgia. Oggi è il profeta Isaia, che ci accompagnerà diversi giorni, al capitolo 11. Perché Gesù dice che i profeti prima di lui hanno profetato, ma non lo hanno visto. E in questa profezia avrebbero voluto vedere ciò che hanno detto, ma non lo videro. Quindi, innanzitutto, abbiamo un grande dono. Viviamo duemila anni dopo la nascita di Cristo e viviamo in un'epoca in cui possiamo tenere tra le nostre mani tutta la Sacra Scrittura. Leggerla, mangiarla, viverla. E oggi ascoltiamo Isaia 11, 1, 10. Un germoglio spunterà dal tronco di esse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Spirito di sapienza e di intelligenza. Spirito di consiglio e di fortezza. Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire. Ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà a cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Amen. Ho voluto leggervi questi dieci versetti per intero affinché sentiate soprattutto la parola di Dio, non tanto il mio commento. Perché quante volte noi siamo abituati a ascoltare solo un commento o leggere libri sulla parola o sul Vangelo, ma non leggiamo il Vangelo, non leggiamo le parole. Quindi, secondo me, è davvero molto importante che voi sentiate qui in diretta, in questi video, questa parola per intero. Proprio perché altrimenti se io parlo solo del germoglio e non leggiamo le altre dieci versetti, non intuiamo tutto di ciò che Dio ci vuole dire. Isaia vive 700 anni prima della nascita di Cristo e ciò che sta dicendo e profetando riguarda la venuta di un Messia. E' uno dei primi profeti che espressamente predice la venuta di un Salvatore, la venuta di un Principe regale di Dio che cambierà le sorti del popolo di Israele. Isaia, pensate, che vive 300 anni circa dopo il regno di Davide, del re Davide, lui nel suo periodo in cui vive ha vissuto l'assedio di Gerusalemme da parte degli Assiri e anche la presa di Samaria. Quindi conosce i disagi del suo popolo, lo vive in prima persona e sotto l'azione dello Spirito Santo predice che sarà venuto un Messia, un Salvatore. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, la casa di Davide, il re Davide. E si parla di un germoglio da questo tronco perché? Perché tutti i re che sono venuti dopo il re Davide non sono stati secondo giusti, direbbe la scrittura, secondo il cuore di Dio. Non hanno compiuto sempre ciò che era giusto. Tanto che si è diviso in due il regno, il nord e il sud. Ecco che lui predice che da questo tronco di Iesse del re Davide uscirà un germoglio, è qualcosa davvero di forte ma di bello. È un miracolo, fratelli e sorelle, un germoglio, qualcosa che prima non c'era e poi c'è. Gesù, 700 anni dopo questa profezia, viene come un germoglio dalla casa di Davide, da questa discendenza. Rendiamoci conto che meraviglia su Gesù si è posato lo spirito del Signore di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza, di conoscenza e timore del Signore. Ecco che allora ci sono le promesse messianiche, in una simbologia davvero molto molto bella e metaforica, naturale. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, il vitello starà con il leoncello, il leone si ciberà di paglia come il bue, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Tutte cose che sono antitetiche, potremmo dire, ma che nel Regno dei Cieli o quando viene Gesù tutto sarà possibile. Ecco, questo profeta avrebbe voluto vedere ciò che ha annunciato. Come ha detto Gesù, molti profetieri hanno voluto vedere ciò che voi ora vedete e non lo videro. Isaia, 700 anni prima della nascita di Cristo, avrebbe voluto vedere cosa sarebbe accaduto. E noi abbiamo, possiamo avere questa esperienza, fratelli e sorelle. Allora ti invito a rendere grazie al Signore per il dono della venuta di Gesù. E noi possiamo dire non 700 anni avanti Cristo come Isaia, ma 2000 anni dopo la nascita, della realizzazione di questa profezia. Amen. E allora rendiamo grazie al Signore. Grazie perché tuo Dio oggi ci doni di sperimentare, che ogni tua parola è stata realizzata. Grazie perché tu avevi predetto la venuta del tuo figlio. come questo germoglio, qualcosa di piccolo, ma qualcosa di verde, di rigoglioso, qualcosa di nuovo, sorprendente, che viene a rassicurare e rasserenare le nostre vite, le nostre case. Signore, noi vogliamo accoglierti oggi come nostro Salvatore, quel germoglio che può portare pace e riempire le nostre case di Te. Noi vogliamo proclamare che la tua dimora sarà gloriosa. Voglio proclamare oggi benedizione per me e per la mia famiglia. E su di me, oh Signore, mando al tuo Spirito. Spirito di sapienza, donami lo Spirito di intelligenza, lo Spirito di consiglio, lo Spirito di fortezza, di conoscenza e di timore del Signore. E grazie per questo grande dono, perché Tu sei fedele. A Te, Signore, l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, rallegriamoci, gioiamo, perché Dio è con noi, è al nostro fianco, e i nostri occhi lo possono vedere in questa giornata. Vi invito, come già ieri vi dicevo, questa sera alle ore 20 e 30, su questo canale di YouTube, ci sarà l'incontro di casa di preghiera di Avvento. Un incontro in cui, come comunità, fratelli e sorelle consacrati, qui a Strona, pregheremo, canteremo, in un modo vivace. Ecco, chi ha seguito qualche mese fa lo sa. E poi farò un piccolo commento su qualcosa di questo Avvento e il Natale, proprio per alimentare la nostra speranza. Infine, ci sarà la preghiera di intercessione, cioè di richieste che ci sono, che vengono da parte vostra e di tanti altri, perché il Signore le esaudisca nel nome Suo. Amen. Vi aspettiamo questa sera in diretta streaming, sempre qui, Casa di Preghiera di Avvento. Ci vediamo anche a domani per questa rubrica. Grazie che mi avete accolto. Ciao. Signore, fa splendere il Tuo volto e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il Tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini, risplendi, risveglia la Tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fa splendere il Tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti.